Vertenza GAM, uno dei tasselli annunciati negli incontri tra regione e sindacati, è andato al suo posto ieri. Infatti, nella riunione che si è svolta negli uffici regionali di via 24 maggio a Campobasso, è stato firmato l'esame congiunto per la cassa integrazione guadagni ordinaria Covid, il trattamento di integrazione salariale per 204 lavoratori. La copertura con gli ammortizzatori dal 26 ottobre al 26 dicembre hanno sottoscritto il documento che va all'Inps, la regione con l'assessore Marone e i tecnici, l'amministratore della GAM Berchicci, i rappresentanti di CGL Cislewil e le RSU. Due mesi che sono ossigeno per i lavoratori, considerata l'imminente scadenza dell'ultima cassa integrazione straordinaria il 4 novembre, ma solo per poter ultimare tutte le altre operazioni per far ripartire la filiera avicola in Molise. Gli ammortizzatori servono infatti per rimanere agganciati alla ripartenza e non cadere nel baratro del licenziamento. Come annunciato dalla regione, dallo stesso Toma vanno avanti i contatti con un imprenditore leader nel settore del pollo, il quale ha manifestato interesse al macello e già si è incontrato con il vertice di via Genova. Inoltre in parallelo si lavora la rimodulazione di alcuni bandi per il reinserimento lavorativo, allo scivolo per la pensione e si aspetta da Roma il rifinanziamento dell'area di crisi complessa a 7 milioni, che è in un emendamento di prossima discussione. Massimo impegno da parte del governatore Toma e lo stesso Marone si è attivato nei suoi incontri istituzionali nella capitale. Non vogliamo vivere di cassa integrazione, non è il nostro obiettivo, tengono a precisare i lavoratori, soprattutto chi è in prima linea da anni, impegnandosi ogni giorno per continuare a fare il lavoro con cui ha costruito la famiglia e in cui si è specializzato. Vogliamo tornare a lavorare, non ci interessa niente altro e vogliamo che ciò avvenga il più presto possibile. Ogni forma di sostegno, ribadiscono, è propedeutica concretizzare quanto è stato definito in modo concreto per far ripartire la filiera del pollo e farci tornare a lavorare, concludono sottolineando che restano vigili e attenti.